13. Mi espando oltremisura. Che cosa senti quando hai una chiaroeggenza? Commento. Avverto come una vibrazione forte, come se qualcosa mi occupasse, e mi espando oltremisura. 14. Allora pongo attenzione e mi accorgo che non è una vibrazione comune che avanza verso di me sotto forma d'immagine. 15. Mi concentro e in me prevale il sensitivo, mentre l'uomo è dimenticato.